di casa nella classica tenuta verde da segnalare la defezione nelle fila del bressanone del secondo portiere Alex Wierer in foto suonatesi ai legamenti è assente pertanto per qualche settimana ecco si parte con il conversano in possesso di palla nelson e rosetto dopo i rituali saluti dei diretti avversari si può partire con nelson che assume la posizione di regista al centro del campo lupo sulla posizione di tazzino sinistro per giorgio nelson lupo nelson la difesa in area di i balli provocò il primo rigore a favore degli ospiti parato da valerio san paolo sugadovcic a favore degli ospiti mitarozner i balli tiro dei balli parata di pasqualino di giandomenico palla nuovamente in possesso del bressanone adia di balli trentanove amsic a favore degli ospiti mitarozner bucker mitarozner mitarozner 1 a 0 per i padroni di casa su una prodezza di armi 1 a 0 per i padroni di casa su una prodezza di armi di giorgio nelson lupo bloccato rosetti da andri tiballi ecco che gli arbitri hanno alzato la mano gli arbitri che chiaramente hanno interesse di smorzare sin dal nascere le prime avvisali gioco troppo duro nelson altra prodezza di valerio san paolo su tiro di nelson i balli palla persa da bressanone però c'è fallo su rosetto ammunizione e bressanone che rimane in possesso di palla tutura per il momento ha preso posto sulla panchina ha dato la fiducia di regista a arian i balli bruccher miterutzner amcic i balli fallo di nelson sui balli rigore parceri e anche lui non riesce a segnare come in precedenza il conversano è il risultato dopo cinque minuti rimane fermo sull'uno a zero ma conferma che sarà una partita molto equilibrata e combattuta dove i rispettivi attacchi avranno difficoltà a superare le arcigne difese fallo di i balli su nelson il tentativo di una volante non è andata a buon fine i balli due minuti per il numero dieci De Giorgio che ha intercettato la palla con il piede si riparte con i balli bruccher di Giulio Archeri Hamzic miterutzner bellissima rete di Ardian i balli perfettamente servito da Hamzic 2 a 0 ecco che il conversano si avviene dell'extra player porta vuota dunque Nelson adesso è entrato Moretti con il numero 2 con il numero 2 Nelson Lupo Moretti piede palla che rimane in possesso del Bresanone bellissima rete di Marco Fantinato ecco Rosetto Nelson braccato dai balli da Hendrity Balli Lupo Arcigno in difesa Hendrity Balli rimessa di Lupo su Moretti Nelson entrato in campo adesso anche il numero 33 lotta greco-romana ecco che l'arbitro è impegnato a sedare l'eccessiva sfoga dei giocatori Nelson e questa volta Moretti rompe il digiuno per gli ospiti 3 a 1 i balli completo sarà adesso il Bresanone a dover giocare in inferiorità numerica vediamo se Comersano riuscirà ad approfittare di questa situazione De Giorgio in cabina di regia al centro Nelson fallo ecco che il Bresanone fa uscire Valerio San Paolo e fare entrare Andrea Basic praticamente sempre molto importante Di Giulio Di Giulio parata il portiere di Conversano e Comersano che ne approfitta con Demis Radovcic per accorciare ultra le distanze 3 a 2 di Balli Amsic che però svergola la palla oltre la porta nulla di fatto dunque è l'opportunità del Conversano di rieguantare il pareggio è rientrato Gianoccaro nella sua posizione di Pivò Lupo Radovcic ed ancora Valerio San Paolo che si supera riparte il Bresanone Arceri Di Giulio vedremo sarà Lupo a dover uscire per due minuti per il brutto fallo su Riccardo Di Giulio che stenta a rialzarsi una partita è certamente dura per la alta posta in palio e probabilmente vedremo ancora più di una di queste esclusioni i patroni di casa questi riprendono il gioco con Davor Ciutura che ha preso posto al centro dell'attacco per dare le sue istruzioni ai compagni vedremo cosa si riuscirà a fare Hamzic bravissimo Hamzic che in situazione di inferiorità numerica aumenta sul 4 a 2 qualche discussione sul tavolo dei cronometristi comunque gol valido a tutti gli effetti 4 a 2 commissario di campo ha qualcosa da riferire agli arbitri si torna al centro del campo per riprendere la partita dopo il gol delle altre 2 2 2 3 2 evidentemente c'era un problema di cronometraggio abbiamo visto che il cronometro è stato il tempo è stato arretrato di una ventina di secondi sull'11.45 è un risultato di 4 a 2 speriamo che finalmente si possa ripendere la partita già entrata nel vivo dopo questi primi dieci minuti e che si profila altrettanto interessante per il restante 50 minuti ecco che il commissario di campo dai via livaro agli arbitri che fanno retrocedere i giocatori come sanno sulla linea di centrocampo per riprendere la partita moretti de giorgio nelson rossetti rossetto va a segno de giorgio 3 a 2 hamcic sotto le poteste degli ospiti l'arbitri combinano 9 metri c'è il parquet di asciugare basic i balli hamcic e nuovamente rigore per difesa in area di radovcic tempo fermato per il cambio di portiere al posto di Gian Domenico entra Di Caro Pasquale Di Caro che si oppone a Ardian Hamzic scusate Iballi Iballi finta e questa volta va a segno portando due le sue reti personali per due torre forse per la Registrad Ardian Iballi a Sinecourt per il 13esimo Ardian Iballi su 0,7 metri Gossetto Moretti Nelson De Giorgio Nelson bracato dalla difesa servito il numero 8 Gian Occaro che con un bel pallonetto in fila Arceri bella rete di Stefano Arceri che dall'ala sinistra in fila Gian Domenico che riporta la più due il risultato De Giorgio Nelson Lupo e ancora servito che Giorgio sulla posizione più bocca però c'entra solo la traversa Ardian Iballi fermata da Nelson Mitterutzner di Giulio Hansic Mitterutzner che va al 100 serve Basic bella rete di Andrea Basic 7 a 4 Nelson Radovcic Nelson che si alza in elevazione e nonostante San Paolo fosse sulla palla non può impedire che questa finisca in rete sembra che Ramsic abbia riportato una leggera di stazione nei legamenti della gamba sinistra e per tanto prende posto in panchina sostituito da Davor Ciotura sulla posizione di terzino sinistro il conversano entra in campo anche Zezat Abdurham Hanovic che si occupa di Basic bellissima rete di Stefano Arceri Radovcic la segna e due minuti per il numero 39 Adam Hamzic Sottoram i balli ciottura su arcieri i valli Miturzner arcieri 9 metri ricordiamo che il Brescianone che si avvale l'extra player bravissimo Ardian Iballi che va a segno in un momento delicato per la sua squadra adesso è il numero 39 Abdurah Manovic ad andare a segno per la prima volta ciottura giulio Niballi ciottura Miturzner Niballi Basic la manovra Miturzner fallo di Rovzic su ecco adesso che gli arbitri hanno alzato la mano del gioco passivo c'è il fallo su Miturzner 9 metri Basic Iballi si dovrà andare al tiro Gli arbitri fanno proseguire nonostante il giocatore conversato fosse stato dentro l'area ha segnato il 23 Rosetto Mressanone è un fallo di lupo che si poteva tranquillamente sanzionare con 10 minuti Gli arbitri però soprassedono e si limitano a decretare i 9 metri Mressanone è tornato completo è una fase nervosetta che i padroni di casa dovranno superare per evitare di essere riagguantati dagli esperti pugliesi Basic Iballi Ancora il commissario di campo protagonista a richiamare l'attenzione degli arbitri non si capisce bene il motivo anche per se si riprende senza ulteriore esito Iballi Ciutura Miturzner Di Giulio Iballi Iballi Conclusione di Ciutura non è andata a buon fine ne approfitta il conversano che riprende l'azione il recupero di Di Giulio non riesce completamente perché la palla finisce oltre la linea laterale Radovcic rimette in campo Masotti ecco che Tarafino richiama in panchina i suoi sul punteggio di 9-8 Radovcic rimette in campo 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 ecco che si riprende dopo il time out chiesto dal conversano sempre con De Giorgio in cabina di regia Radovcic De Giorgio Radovcic riesce ad andare al tiro ma è ostacolato e gli arbitri decretono il rigore segna Muretti sul rigore 9 pari quando sono giocati 20 minuti scambio di posizione tra Arcieri e Ciuturant, Iballi, Arcieri, Mitteruzner, Arcieri ballo su Arcieri Ciuturant si alza in elevazione parata di il portiere e certamente il conversano non si lascia sfuggire questa occasione per andare per la prima volta in vantaggio ed è ancora De Gian Domenico a superarsi su tiro di Ciuturant è decisamente una fase favorevole ai campioni d'Italia che da 1-3 sono riusciti in pochissimi minuti a ribaltare la situazione e portarsi in vantaggio sul 10-9 Posamai ora sulla posizione di terzino destro di Giorgio Gharovcic Passamai Viva 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 Pagata Pagata di San Paolo su Moretti Ciuturant in seconda fase serve Iballi Su limite del lo sfondamento degli abiti comunque Concedono i 9 metri eseguita da Vazic Ciuturant che chiede la sua volta il time out la sua volta Grazie a tutti. Dopo il time out chiesto dalla squadra di casa, ecco che la stessa rimette in gioco la palla, sutura i balli, Fantinato adesso al posto di Mitteruzn, di Giulio molto mobile la difesa del Conversano che riesce a chiudere. I varchi, bravissimo Marco Fantinato a sorprendere Tijan Domenica con un tiro nell'angolo corto, parità. Passamai, Rosetto, Passamai, Moretti, Radovcic. Due minuti ad Arceri per il fallo su Radovcic e nuovo rigore per il Conversano. Ancora Moretti sulla fattidica linea contro San Paolo. Ancora Moretti su rigore, è il secondo che riporta in vantaggio gli ospiti. E' ancora l'infaioretà numerica per i padroni di casa che si avvalgono dell'extra player. Fallo su Tutura. Eseguito al 9 metri, Tutura, Fantinato, i balli, Mitteruzner. Al rete di Cristian Mitteruzner. Servito molto bene sull'ala sinistra. Parità, 11 pari, quando siamo giunti a 5 minuti per la fine del primo tempo. Passamai. Mitteruzner rischia due minuti per la trattenuta della maglietta. Gianoccalo, Passamai, Moretti. E quando Radovcic riesce a liberarsi sull'ala, ben poco da fare per il portiere. Basic, Biballi, Cantinato, Sutura. Bravissimo Valera San Paolo a neutralizzare questo tiro. su fallo di lupo ai danni di Iballi. C'è un rigore per i padroni di casa. Ardiani-Valli contro Di Giandomenico. Bellissima rete di Ardiani-Valli. Che porta in parità la sua squadra. Ecco, torna in campo Nelson, dopo essere rimasto per un po' sulla panchina. Mancino svedese. Una costante spina nel fianco. Moretti, Radovcic, Nelson, De Giorgio, Saita. E va a segno il numero due, Moretti. Arceri, bravissimo Arceri. E due minuti per Saita, per il fallo su Arceri. Tredici pari, manca un minuto e trenta. Alla fine di questa vibrante prima frazione di gioco. Arceri, tre, tre, tre di ferma. Spir, detocco, e venti, cinque. Il tempo sopporto è alla fine trenta e trenta e trenta. Il conversano dunque dovrà disputare questi ultimi un minuto e mezzo più o meno in inferiorità numerica. c'è il commissario di campo indaffarato a far prendere posto in panchina in questo caso l'allenatore Tarafino. Moretti, Radovcic, De Giorgio, Nelson. Morsetto. Moretti, Nelson. Una bella volante che ha portato al nuovo vantaggio del conversano. e questa volta il tiro di Arceri viene neutralizzato da Di Gian Domenico. Nuovo vantaggio del conversano quando è scoccato l'ultimo minuto del primo tempo. Nelson De Giorgio Radovcic Nelson fallo su Gianoccaro mentre i secondi scorrono e il conversano certamente non ha fretta a rimettere la palla in gioco mano alzata degli arbitri Nelson De Giorgio palla che finisce fuori e tempo scaduto. Termina dunque questo primo tempo questo vibrante e affascinante primo tempo sul risultato di 13 a 14 a favore degli ospiti c'è da scommettere che vedremo un secondo tempo sicuramente spettacolare a più tardi grazie a tutti 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 Ciutura i balli che serve Basic, intercettata la palla da lupo, Ciutura i balli, Ciutura dell'alto della sua classe segna la sua prima rete, sorprendendo Di Gian Domenico, parità. Squadra nuovamente al completo, adesso è Nelson che assume la regia in centro campo, Moretti, autentico matatore del primo tempo, pregevole azione individuale di Ignazio De Giorgio che trova I balli bloccato da lupo Ecco che Basic rimette in gioco Sui balli, Fantinato, Ciutura, I balli, Ciutura, Ardian I balli con la sua quinta rete rimette in parità le sorti Moretti E Nelson Moretti E Giorgio Moretti, Nelson Sfondamento del pivot, palla al Vressanone, si parte in contropiede, I balli, veloce e puntuale, questa volta ha dovuto fare retromarcia di fronte a una silva difesa di De Giorgio Rigore per fallo su Ciutura Al tiro, al tiro I balli, entra di caro Ardian I balli sulla linea finta Segnatura Che porta nuovamente il Vressanone in vantaggio De Giorgio De Giorgio Radovcic Moretti De Giorgio Moretti Nelson Che serve In perù Però Vito Fovio Non si fa sorprendere Viene fischiato Un blocco irregolare Un blocco irregolare Ad Andrea Basic Ad Andrea Basic De Giorgio De Giorgio Moretti Fallo di Fantinato su Nelson Mano alzata per il gioco passivo Moretti Serve Nelson Che però sbaglia allo specchio della porta Riparte Oh! Passo intercettato Gli arbitri decretano due minuti per fallo su De Giorgio Gli arbitri decretano' l'inferiorità numerica del Bressanone Moretti, De Giorgio Nelson bellissima parata di Valerio San Paolo palla che però rimane in possesso degli ospiti palla recuperata dal Bressanone di Giulio incredibile gli arbitri non avvisano il fallo in questa situazione è veramente difficile capire la decisione degli arbitri che pur appena poco fa avevano combinato in due minuti a favore del conversano altrettanto dubbio c'è una munizione per l'allenatore Neuner iniziative delle arbitri non proprio utili a contenere l'atmosfera in un minario di correttezza si riparte col conversano in sopranumero sentite i fischi del pubblico Nelson clamoroso errore di De Giorgio che solo sulla linea dei 6 metri sbaglia lo specchio della porta ecco che entra in campo anche Hamzic che è rimasto fuori per un po' di tempo preso ovviamente per il colpo preso Fantinato Hamzic Basic difesa avanzata sul tiro di Fantinato Pada di Giandomenico e conversano torna in possesso di palla Moretti De Giorgio Radovcic Nelson Nelson Conte è statissima decisione degli arbitri che combinano un altro due minuti mentre rimane a terra un giocatore del conversano Bello Non Bello Vini Musei Grazie rigore che viene eseguito da Moretti già segno cinque volte di cui due su rigore e segna Moretti parità ecco che Pai Bresanone torna in campo Mitteruzner al centro Fantinato Marco Fantinato una rete molto preziosa perché conseguita in inferiorità numerica ci stanno scaldando gli animi anche per via di qualche decisione arbitrale a dir poco poco felice certamente non è facile dirigere un incontro di questa intensità non ho capito bene qual è il motivo per il quale torna in possesso di palla del Bresanone decisione scaturita dopo un intenso scambio di informazioni tra commissario di campo e arbitri ecco che finalmente si può tornare a giocare ecco che finalmente si può tornare a giocare tiro di aceri bloccato da acerciare a giocare di francese di torna il conversano che va a segno con il numero 23 approfittando Rossetto approfittando della disattenzione della difesa verde Mitterutzner Ciutura Mitterutzner nove metri per fallo su Basic ecco Bressonone nuovamente al completo Ciutura Gran tiro di Basic che però colpisce la traversa e torna nelle mani del Conversano che va via in contropiede Lupo Lupo che con una sua plateale caduta provoca le ere del pubblico presumibilmente nell'intenzione di ottenere una sanzione a carico degli avversari intanto siamo giunti al decimo del secondo tempo risultato ancora in perfetto equilibrio c'è da giurare che tale rimarrà fino alla fine o quantomeno si auspica che emanga così fino alla fine perché la partita è vibrante però bellissima sotto ogni aspetto Moretti Nelson Nelson che per la verità finora non ha potuto segnare come è solito fare Moretti Nelson Nelson Altra decisione che provoca l'area del pubblico che reclamava uno sfondamento e invece gli arbitri concedono il rigore per gli ospiti sono in carica ovvio Moretti che dei tre rigori ha saputo aggazzarli tutti quanti moretti contro San Paolo incredibile para San Paolo la palla torna in campo e gli arbitri decretano un altro rigore per asserito farlo su Moretti questa volta al tiro ci andrà Nelson che però sbaglia il bersaglio e tira oltre la traversa la partita prosegue in un'atmosfera incandescente squadra nuovamente al completo Mitteruzner Fantinato Mitteruzner Arcieri che va al tiro però para di Gian Domenico riparte il Convasano Radovcev calma l'azione richiama l'ordine suoi De Giorgio Nelson Moretti Moretti Mano alzata doppio fallo fallo su Moretti Nelson ed è ancora Valerio San Paolo che ci mette una pezza clamoroso oggi Valerio San Paolo questa volta questa volta gli arbitri fischiano un fallo di piede per Hamzic è decisamente e decisamente Valerio San Paolo a tenere in gara i suoi con delle sparate continue che hanno l'incredibile 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 che stanno che stanno careggiando su un livello altissimo De Giorgio Radovcic Moretti ed è ancora Valerio San Paolo a dire no a Moretti Hamzic ecco che torna in campo Ciutura e Basic ovviamente oggi non è il caso di far entrare i giovani stante il calibro degli avversari e quindi la necessità di esperienza Marcieri Ciutura che invade l'area nel tiro nulla di fatto riparte il conversano Moretti palla bloccata lo fantinato ed è il conversano a chiedere il time out che gioverà le squadre anche per riprendere un attimino fiato considerata l'intensità con la quale viene condotta questa gara è il momento in che Grazie a tutti. 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 Fantinato. I balli. Fallo di lupo. Mano alzata degli arbitri. Piede. Piede. No. Clamorosa volante. Gli arcieri sul servizio di Ciutura. Sono due le reti di vantaggio quando scocca il ventesimo minuto del secondo tempo. però guai a rilassarsi. La partita è tutta aperta ad ogni risultato. Passamai. 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 De Giorgio. E gli arbitri non esitano a concedere l'ennesimo rigore. Parasserita difesa in aria. Mentre dobbiamo constatare che sul verso opposto. Rigori per questo motivo se ne sono visti pochi e nulli. Vediamo reti. A tirare il suo quinto rigore. Opposto a San Paolo. Inutile dirlo. Valerio San Paolo. Si sta ormai superando. Di azione in azione. Arceri. fallo di sfondamento affischiato da Arceri. Giorgio. Abdomanovic. 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 Succotti. Succotti. San Paolo. San Paolo. San Paolo. San Paolo. con il presa Nune nuovamente in possesso di palla Arceri Neuner chiama i suoi siamo entrati decisamente nella fase più calda e decisiva della partita mancano sette minuti il padrone di casa in vantaggio di due reti e con la palla e con il possesso di palla e con la palla vedremo se il Bressanone a sette minuti e mezzo dalla fine saprà gestire a dovere e con diligenza il tempo rimanente non incorrendo negli errori di una settimana fa Sassari Suttura fallo su Basic 9 metri azione un po' avventata del Bressanone fortunato in questo frangente Marco Fantinato si inventa una rete che veramente è di grande importanza però una squadra come il Conversano con giocatori esperti in ogni ruolo sicuramente non demorderanno ed infatti a confermare quello che stavo dicendo Hector Vesezzat Ardoramanovic infila un palone all'incrocio dei pali nulla da fare da Valerio San Paolo i balli al centro tiro di Fantinato che questa volta non c'entra lo specchio della porta mi torna sotto il Conversano Lupo adesso al centro Lupo palla per Abranovic che viene fermato fallosamente da Arcieri da Hamzy scusate per Giorgio Nelson per Giorgio palla persa dal Conversano in una fase molto delicata della partita di Valle di Valle scutura ormai si fa importante ogni palone la difesa e come stanno adesso è all'entrata e ancora sfondamento fischiato a riballi palla che entra in proprietà del Conversano che imposta con calma la sua azione offensiva c'è Giorgio con il numero 10 che entra in difesa palla 9 metri Gianoccaro di Giorgio Nelson Valerio San Paolo para su Abduramanovic e consente ai suoi di mantenere il vantaggio di due reti quando mancano quattro minuti alla fine adesso servono nervi saldi potrebbe essere un attacco decisivo quello che adesso è in porcinto di concludere il Bressanone una rete in questo frangente agevolerebbe di molto anche in questo caso sarebbe stato da concedere un rigore alla falsa riga di quello che succedeva dall'altro parte proprio fa intanto però c'è una sanzione di due minuti a carico di Giorgio altri due giocatori devono lasciare il campo Basic e Gianoccaro probabilmente per gli scambi di cortesia appena venuti nervi a fior di pelle ovviamente quando mancano tre minuti e mezzo stante le esclusioni temporanee di due minuti adesso il conversano dovrebbe essere in quattro e Bressanone in cinque così infatti è vedremo quali delle due squadre saprà trarre vantaggio da questa situazione di nervosismo che ormai avvolge tutti i giocatori pubblico questa è una situazione che il Bressanone non si può certo fare sfuggire di mano Arceri Amcic anzi Balli credo scusa Ciuttura Fantinato Di Giulio Rete Di Giulio è la sua prima che scatena il fondimento fin di mondo qua in palestra ormai il Bressanone è molto ma molto vicino a quello suo traguardo che si era preposto quest'oggi però mancano ancora sempre quasi tre minuti nella fine e guai a passare la guardia Nelson 52 Demis Radovcic ha colto la disattenzione della difesa brissinese Davur Ciuttura Ciuttura e ancora di Giulio a segno tre reti per il Bressanone mancano poco due poco più di due minuti alla fine l'arbiti cercano di porre le discussioni tra Nelson e Henry Tiballi coinvolti Abbraminovic Nelson Abbraminovic che riesce a sbucare Valerio San Paolo ecco ora che entrambe le squadre sono tornate al gran completo per un finale di partita che non è nulla e Ciuttura compie un errore incredibile incredibile errore dell'esperto Davur Ciuttura che consegna la palla agli avversari quando mancano 50 secondi alla fine sono due le reti di vantaggio per il Bressanone però si sa nella palla mano in un minuto possono succedere di tutti i colori Tarafino tenta il tutto per tutto per istruire la sua squadra in questa forse ultima azione di attacco qua Bressanone si è tornati all'entusiasmo di una volta finalmente con il pubblico al 50% e grazie a questa partita che tanto prometteva e che sinora ha mantenuto tutto quello che ci si attendeva grande affare per il commissario di campo un corpio attivo di allenatori e giocatori in campo sicuramente mister Tarafino ha impostato uno schema con il quale arrivare al gol vediamo se la difesa verde riuscirà a contenere le ultime sfuriate dei gialli pugliesi Nelson e Gianoccaro molto fortunato riesce a entrare in possesso della palla per disegnare il 22 a 21 ecco Stefano Alceri e siamo nuovamente al time out l'ultimo ovviamente di tutta una serie questa volta chiesto dal Bressanone che ne ha ancora uno a disposizione la partita è ancora aperta direi a due risultati alla vittoria del Bressanone o a un pareggio tra le due squadre sembra scontato che il Bressanone non possa più vincere questa partita questo almeno appare porrabile però come detto mancano ancora 24 secondi che possono essere un'eternità adesso saltano tutti gli schemi tattici ovviamente vediamo che si passa alla marcatura all'uomo e vedremo chi delle due squadre Ardia Ardia Anniballi pone fine a questa partita ma ancora segno il 23 Rossetto però la vittoria è dei padroni di casa che in una partita incandescente condotta per 60 minuti a livelli impressionanti è riuscita a piegare i campioni d'Italia che fino all'ultimo momento ce l'hanno messa tutta oltre alla gioia dei padroni di casa per questa vittoria rimane la considerazione molto importante che il campionato è tornato vivo grazie al Bressanone che ha fermato la corazzata del Conversano fosse la squadra più forte di questo campionato onore onore comunque a entrambe le squadre che hanno dato vita a un grande incontro di Palamano condotto sia sul livello tecnico sia su quello agonistico ai massimi livelli una Palamano che dovremmo vedere più spesso nel campionato italiano con le immagini del Bressanone che si congeda dal proprio pubblico un grande incontro con le immagini di gioia terminiamo questa telecronaca dal Palasport di Bressanone grazie di essere stati con noi e arrivederci